I Tireways da Parigi a Roma più vicino, a 320 NEO. I Tireways a 220 a 300, da Trieste fino a Roma, a Trieste. Questo l'aereo proviene da Trieste, un aereo colore azzurro. I Tireways a 320, da Palermo. Non è il Rolls Royce XW, non è XW. Questo è il Rolls Royce CFM. Ecco, volatea a 320, 214, da Olbia fino a più vicino. Guardate che la... Questo è un piccol'aereo. Che potente l'aereo di Rolls Royce CFM. Come CFM, lo stesso I Tireways. L'aereo... L'aereo I Tireways proviene da Trieste. 820, è 319, proviene da Firenze. Emirates A380 per Dubai, in India o in Emirata Unita. Ryanair Boeing 737, di Ryanair, proviene da Valenza e diretto a Roma. Il motore... Sempre il CFM 5620B. I Tireways A320neo, da Torino. Il motore di Rolls Royce CFM G1, MIP 1A. L'aereo I Tireways A320neo, A320 normale, Rolls Royce CFM, GSM A56, GSM. L'aereo I Tireways A320, da Venezia. Eccolo, eccole. Wize A321neo, da Germania, proviene da Berlino e da Capitale di Germania. Il motore CFM, CFM LIP 1, è qui. C'era come un ventilatore. L'aereo I Tireways A320neo, da Napoli fino a Roma. Atterraggio Forza Italia, mio stadio di Maradona. Stadio di San. Allora, l'aereo si chiama United Airlines. E' diretto per San Francisco. Quindi, il Boeing è 777-222. ER. Va diretto a San Francisco. Di Tireways A319, proveniente da Genova. Il motore è CFM 56. L'aereo, aereo con il logo verde di Transavia, proveniente da Parice Orlais. C'è CFM 56 del B, 7B. Tu hai l'A300? 737. E quello è il Boeing 787. Ah, scusate, Boeing 737. KLM, Boeing 737-8K2, proveniente da Amsterdam Stifull. Eccola, il motore. Il motore è CFM 56. E' big. Atterraggio. I Tireways A220-300 che provenient da Nice. Ecco, il motore è del nostro... Part with me. Il motore è part with me. Oh, no, mi è detto. Atterraggio UO Bruxelles Airlines, proviene da Bruxelles, fino a Roma. Airbus A319, 112. Il motore è grosso. CFM 56. Ecco l'aereo che proviene. Proviene da Amsterdam e diretto a Finiscina. Ittau Airways A320 Neo. No, non è Neo. Scusate, A320, normale. Verso Finiscina. Da Palermo. L'aereo Alicante e il Boeing 737-800. Rain Air. Ecco la Rain Air. Non è un aero da Ciampino questo. Come potete notare che l'aereo, Rain Air, si vola anche da Ciampino o Finiscino. Vale. Vailing.com, proviene da Parigiorli. Per il motore, però, il A320-214. Quindi, il motore è circa il WB. Il motore, con la Spagna, questo è sempre CFM 56, che proviene da Spagna, questo è l'aereo. L'aereo, il Tirebus A320-216, proviene da Catania. Il motore, con la sempre CFM 56, rispetto a quella del Wailing, il Tirebus A320-216, da Bari. Ecco, il motore è pronto, il motore è pronto, con il Wigney. Vola, vola. Si va a volare. IAE V2500, British Airways A320. Vediamo, IAE V2500. Facciamo così. Non dirlo, lo dici dopo, ok? Per quando ho finito il video. Quindi, vediamo l'ultimo all'aereo, che è rimasto un British Airways A320, che proviene da Londra. E-Trow. Ecco il motore dell'A320, di British Airways, che proviene da Londra. E-Trow. Eccoci qua. Benvenuto l'aereo britannico. Il W2N finisce qua. La parte finisce qui, vista aereo da Fiumicino. Fine.